Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi vi presento la nuova versione VideoPad del 2022 ragazzi oggi vi spiego come usare questo VideoPad Editor Video professionale e quindi se tu vuoi editare un video semplicissimo ad esempio registri, vuoi mettere una canzoncina sotto, editare, tagliare qualche clip ti consiglio VideoPad Editor Video ma se vuoi fare un film ad alta definizione come fa la Marvel ragazzi vi consiglio Premiere, Da Vinci, altri programmi professionali ma lì dovete per forza fare corsi per imparare al 100% quei programmi editing invece di VideoPad Editor Video ragazzi è professionale, semplice e più ci smanettate, più usate VideoPad e più sarà semplice per voi lo uso da almeno due anni e ve lo garantisco è molto utile, consigliato ed è anche leggerissimo quindi innanzitutto prendiamo qualche video che abbiamo, non so, registrato io adesso prendo un gameplay che ho fatto su Eden Ring ora, come potete vedere questo video pesa più o meno allora facciamo un attimo una cosa, questo video pesa 2GB e ci ha messo due secondi per caricarlo tutto, ok? perché c'è un buon processore, scheda video buonissima voi invece che avete un portatile un po' vecchiotto ci metterà un paio di minuti nel caricamento di un file pesante di 2GB, ok? quindi, io adesso prendo questo gameplay che ho fatto, ok? e quindi cominciamo già a risolvere, ad aggiustare un po' gli effetti visivi, effetti sonori soprattutto anche a fare la sovrapposizione quindi che significa la sovrapposizione? nel senso mettere un'immagine oppure qualche green screen sopra ad esempio, adesso prendo qualche green screen che io ne ho parecchi tanti green screen stupidi, però mi fanno ridere allora, prendiamo questo qua, tipo iscriviti al canale, cose così adesso vi faccio vedere una cosa ecco qua, ok ecco, questo è il green screen allora, facciamo così, questa è la sovrapposizione quindi possiamo andare su FX, che sono gli effetti schermo verde la soglia invece, prima di fare questo procedimento cercate di spostare la linea rossa su questa immagine tanto per concentrarvi a togliere lo schermo verde per capire un po' se l'avete tolto del tutto un altro po', un altro po' se continuiamo a togliere, ok, va benissimo così in dissolvenza invece ok, in dissolvenza invece va così ok può andare, possiamo anche ridimensionare questo effetto adesso vi faccio vedere come ok, ci clicco sopra scala e faccio così, ok e lo posso posizionare dove voglio quindi lo metto qua, lo metto qua, lo metto qua ok, quindi faccio così questo sono io che, vabbè, era un piccolo tutorial, così poi esce l'effetto, ok la campanellina però all'inizio è iniziato malissimo nel senso che tu apri il video e già inizia così ok, quindi possiamo aggiungere qualche dissolvenza in entrato ok, così facciamo imposta e guardate un po', ok così può andare, ok allora, poi c'è un'altra cosa che voglio spiegarvi è quella della slow motion quindi del rallentatore un attimo che arrivo a quella scena adesso vi faccio vedere una cosa ok, questa guardate un po' io adesso premo L per tagliare la clip ok, adesso ne ho due premete L lumaca L è lumaca ok e adesso concentriamoci su questa clip ok ora facciamo caso che adesso in questa scena io adesso sto volando ok un po' più indietro faccio di nuovo L questo invece devo collegarla a questo ma non fa niente ok questa è la parte che ci interessa di più ok piano piano ok ora facciamo clicchiamo su questa clip facciamo cambio a velocità della clip e qui c'è la durata tipo 6 secondi quindi se adesso io metto 0 2 imposta velocizzo la clip ok guardate è più veloce ok se invece metto 0 no anzi mettiamo 12 12 12 12 allo slow motion all'alentatore ok possiamo anche aggiungere qualche effetto nel senso possiamo fare effetti adesso dall'ottima versione del 2022 hanno aggiunto altre cose ancora più belle bilanciamento del colore mi serve qualcosa tipo alla discoteca hai capito colore vediamo un po' cosa abbiamo qui allora ok tipo colore ok colore cambio effetto del colore possiamo anche mettere normale oppure bianco e nero bianco e nero però quando dal colore passa a bianco e nero da una brutta impressione ok quindi possiamo mettere una transizione ecco la transizione ci mettiamo una dissolvenza in entrata eccola qua adesso vediamo com'è 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 guardate un po' com'è com'è bello adesso ok chiudiamo qua ok è più bello così tipo dà una buona impressione dal colore passa al bianco e nero e viceversa se volete farlo tipo bianco e nero a colore poi per non parlare anche dell'audio dell'audio degli effetti per esempio se volete non so se si sente bassissimo potete anche amplificare l'audio se il video padre ti lo permette di amplificare l'audio accento per esempio tu stai parlando con la tua voce poi ti accorgi che nel video si sente la tua voce bassissima lo amplifichi di qualche 30 cioè di qualche ok a 30 ok e si sente così con un volume più bustato ok ora se tu adesso vorresti non so aggiungere una intro una sigla adesso facciamo adesso prendo la mia intro che non uso quasi mai da ormai due mesi chiudiamo la vera intro ecco poi da un po' fastidio ecco parte la intro ok così ora da sempre una strana impressione quando finisce e poi esce così non mi piace quindi possiamo pure mettere una dissolvenza in colore ecco come funziona adesso vi faccio vedere la dissolvenza in colore come funziona ok 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 no nessun freeze frame all'inizio oppure si lo so che ti ho consigliato questo ma io vi consiglio di nessun freeze perché certe volte te la sposta la clip ok un bel bianco ok guardate un bel bianco se invece vi da fastidio e non vi piace allora possiamo anche rimuovere questo bianco e mettere non so una dissolvenza grezza ok guardate è più bello ok dà anche una una buona impressione così oppure possiamo mettere qualche far rimbalzare numero di rimbalzi lasciate stare così ok e guardate un po' il numero di rimbalzi un solo due rimbalzi ha fatto ok comunque ci saranno altri guide più avanti però ragazzi io adesso vi dico solamente una cosa consigliatemi qualche altra cosa che posso non so portare sul videopad ok così è più facile perché ormai videopad edito il video posso pure editare ad occhi chiusi ormai lo conosco come le mie tasche veramente io uso sempre videopad edito il video certe volte anche premiere quindi ora ora cosa vi posso spiegare cosa vi posso allora ora se adesso vogliamo non so mettere un titolo un bel titolo basta fare aggiungi testo testo ok scegliete il vostro font che avete non so scaricato per scaricare uno di questi font vi consiglio il sito vi consiglio il sito di font font questo qua l'applicare e potete scaricarli e installarli sul vostro pc quindi chiudiamo qua andiamo sul testo e adesso scrivo un attimo qui adesso un disastro qua davanti ciao ragazzi facciamo così possiamo dovete prima evidenziare il test poi fare così possiamo posizionare il testo dove vogliamo noi possiamo anche aggiungere una transizione tipo dissolvenza l'entrata come abbiamo fatto all'inizio imposta anche con lui imposta ok pronti ok allora torniamo un po' indietro ciao ragazzi adesso dove sta la scritta ciao ragazzi che adesso non riesco a vederla non riesco a vedere la scritta non so perché un attimo faccio così ok adesso è più al centro possiamo anche non so aggiungere qualche effetto al testo nel seno aggiungi testo tipo vediamo un po' quella da star wars ok come andiamo la gente lo facciamo dal font god of war eccolo guarda più bello come andiamo bella gente ok possiamo anche scalare il testo come andiamo bella gente un attimo scala di un altro po' ok però è troppo veloce quindi se adesso allungo un po' il testo qua della della clip va lo stesso veloce ok allora possiamo durata animazione falla durare 10 secondi no 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 ok a posto va bene così ok e cancelliamo tanto adesso non mi serve poi un'altra cosa che è molto utilissima è la registrazione sotto una clip quindi ciao ragazzi ok narra registra la narrazione qui possiamo impostare il nostro microfono qualsiasi microfono io adesso beh c'è un microfono che sto usando questo qua volume master oppure un decibel oppure se mettiamo meno 10 decibel si sentirà bassissimo invece se mettiamo oltre il rosso si sentirà si sentirà ad una potenza più elevata quindi mettiamo un decibel e registriamo ora faccio tipo una registrazione test salve salve registrazione test come andiamo tutto a posto quindi questa è la nostra registrazione questa salve salve ok adesso visto che la nostra voce si sente benissimo però c'è l'audio del gioco che rompe un po' i coglioni scusate tanto per la parola l facciamo l pure qua e abbassiamo un po' la voce qua cioè abbassiamo il volume salve salve registrazione test come andiamo tutto a posto ok ok però ha dato anche una un suono tipo scratevole alla fine nel senso guardate un po' si sente e poi si sente bassissimo così all'improvviso quindi noi possiamo fare così con l'audio dove sta dove sta ok scolleghiamolo dall'audio e facciamo dissolvenza in uscita ok guardate salve salve ok dall'alto in basso per la dissolvenza in uscita lo stesso vale anche per la dissolvenza in entrata adesso vi faccio vedere come si fa ok no ho sbagliato ctrl z se volete tornare indietro premete ctrl z ora facciamo così dissolvenza in entrata salve salve legistrazione test come andiamo tutto a posto ok prima si sente bassissimo e poi si sente ad una potenza elevata ed ha anche fastidio madonna 27 gradi o c vabbè ok si sente basso quindi qua dobbiamo mettere una dissolvenza in entrata così è più dolce ok è più bello poi una volta fatto le clip una volta risolto gli effetti visivi l'audio e tutto il resto possiamo fare un'esportazione del video quindi come funziona andiamo andiamo su file video scriviamo il testo tipo io adesso scrivo prova tutorial salvo il video in una cartella quindi metto desktop eccolo qua ok hanno aggiunto adesso il riempimento della sfocatura io metto sempre stand qui frame rate se voi avete registrato il video in 60 fps vi consiglio 60 fps se invece avete messo se avete registrato il video in 30 fps vi consiglio 30 fps io metto 60 fps e possiamo anche creare ora se avete un buon processore ci metterà pochissimo ok se invece avete un processore un po' all'antica ci metterà parecchio dove eccolo non è questo scusatemi eccolo con l'esportazione è buonissimo ok è uscito buonissimo senza like senza problemi poi se invece non so state lavorando al vostro video e volete salvare il vostro progetto quindi il vostro amico vi ha chiamato dicendo ehi vuoi uscire e voi invece state facendo qua state lavorando e fate salvo progetto prova tutorial email desktop salvo ok adesso nel senso chiudete il video pad e una volta chiuso prendete questo progetto e lo buttate su video pad oppure ci cliccate sopra e si aprirà video pad con il vostro progetto ok mi raccomando non spostate i vostri file se no se li spostate poi il video pad vi uscirà cioè vi uscirà un avviso dicendo non abbiamo trovato il file nel progetto quindi mi raccomando quando salve il progetto assicurati di tenere tutti i tuoi file in quella cartella basta che non li sposti ok questo disco lascia stare poi che abbiamo più qua abbiamo videocreatore che adesso l'hanno aggiunto non è altro che il suo intro ma lasciate stare non sono un granché quindi io vi consiglio di usare panzoid per l'intro qui ci sono i sottotitoli che abbiamo più adesso gli effetti ok quindi ragazzi che dire nel taglio gli effetti visivi gli effetti sonori la risolvenza altre cose così se invece volete sapere altro mi raccomando scrivete nei commenti se volete non so altri tutorial basta scrivere e avvisarmi non so dirmi cosa volete che io vi porti sul videopat quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione è stata anche una bella esperienza spiegarvi un po' questo videopat a titolo video nel 2022 quindi se il video vi è stato bellissimo lasciate like iscrivetevi al canale noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao